Da qualche tempo cominciano a vedersi in giro i cosiddetti QR code. Cosa sono questi simpatici disegnini? I QR code sono dei codici bidimensionali che contengono informazioni di vario tipo. L'indirizzo di una pagina web, oppure un testo, oppure un link per esempio a YouTube. Vediamo come utilizzarli in pratica. Quando troviamo un QR code che ci interessa su un volantino o su una pagina di un giornale, prendiamo il nostro smartphone, lanciamo l'applicazione che legge i QR code, inquadriamo il codice e attendiamo la scansione. Dopo il riconoscimento del codice ci verrà proposto il collegamento alla pagina web. Diamo il consenso e il telefonino si collegherà alla pagina di interesse. Facile, no? Quindi, quando troveremo un codice QR, inquadriamo, scansioniamo, ci colleghiamo e navighiamo.